La vita è un viaggio. All'inizio non sai dove questo viaggio ti condurrà, non sai neanche che sei in viaggio ed in particolar modo perché. Da piccolo sono le persone che ti trovi accanto, che ti aiutano ad intraprenderlo e loro ti conducono attraverso la vita aiutandoti con i loro esempi, i loro insegnamenti per far sì che tu diventi autonomo e sappi a tua volta in un futuro essere una guida. Le persone che trovi durante il viaggio, che è la vita, ti insegnano che bene prezioso essa sia e quanto sia importante poterlo intraprendere. La tua famiglia, i tuoi affetti, ti danno gli strumenti e i mezzi per diventare sempre più indipendente e autonomo per riuscire a prendere in mano la tua vita. Infatti viene un momento in cui non ti va più essere solo a fare questo viaggio e comincia a cercare una persona che abbia voglia di viaggiare con te. Non è facile trovarla, ma quando la trovi ti senti dentro che quella è la persona che stavi cercando. Con il passare del tempo quella persona diventa sempre più importante per te ed il biglietto per il tuo viaggio cambia e alla fine diventa per due persone. Arriva poi un giorno in cui senti che anche quel biglietto per due ti va stretto e allora cerchi con il tuo compagno di viaggio una nuova presenza. La cerchi perché senti il bisogno di donare, donare a qualcun altro la vita e di essere anche tu una guida e di costruire una famiglia, la tua. Il viaggio della vita ogni tanto presenta delle difficoltà, grandi o piccole che siano, ti aspettano dietro l'angolo, magari in un momento in cui proprio non te l'aspettavi, ma l'importante è sapere che dopo qualunque difficoltà c'è sempre una vita uscita, una luce che ci dona la speranza, la voglia di andare avanti, perché la vita è un viaggio meraviglioso che vale la pena vivere.